bruttissima una vera, ah eccola c'è un tac ma c'è il pane lo carosi però prima raggruppiamoci perchè siamo attivisti ho uccisi c'era io aiuto amici madonna guarda cosa c'è qua troppe uccisioni ragazzi sono imbattibili mi stanno rianimando che sta succedendo sono già quattro uccisioni oh my god am i the best player in the game ma porco dio non ci credo salvo salvo veloci uccidi no vabbè come ci arrivavo dai dov'è uccidi uccidi mi dovrebbe dare una kill tutti i bender ma porco dio c'era il pane che ho fatto solo una kill che merda va ciao